Ciao a tutti, io sono Sonia e oggi come potete vedere da quello che vedete appunto siamo su Rainbow Friend, ma non sono da sola oggi perché qui con me c'è uno scatolo di angurie di cocomeri Peccato per il nome perché sennò sarebbe stata una gag bellissima, Meri Non posso saltare, perché? Ma no, non fa saltare in questo gioco Comunque, c'è un problema Meri, perché siamo da sole? No, non sono più le giocare con noi Beh, se iniziamo così proprio abbiamo perso in partenza ma direi di non perderci troppo in chiacchiere Meri perché ogni volta mi viene un video Vabbè, iniziamo a entrare così mano a mano che vengono No? No, perché sennò siamo in pochi Eh ragazzi, ci sistemiamo e iniziamo Ok, dove sei? Allora, sì, perfetto, iniziamo Meri Quindi, praticamente in questa prima mash ci dobbiamo nascondere solamente da blu e da green mi sembra, non mi ricordo se già green c'è Dobbiamo prendere queste qua, vieni, dove sei? Sto andando il volume, se arriva qualcuno non c'è C'è green, ecco, perfetto Allora, green Ma dove sei? Vieni Pietro, green non vede? Allora, vieni qua, vieni, alzati Non ti preoccupare, non succede niente Guarda, qua c'è una lampadina, prendila tu Ok, la devi mettere qui dentro Ah, ok Perfetto Green Ah, c'è blu Ma noi qui già possiamo stare senza che ci vede Ah Ok Sì Green sta venendo per qua, stiamo attenti Pagnolli, vieni Di qua dove è andato blu? Allora No, dove vai? Ah, vuoi No, lei Oh no Oh no No, 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 no Io mi sono alzata, non so te Non so Ti sei alzata? No No, no, perché c'è la blu E sei morta? No, sto qua Ma qua dove? Mi sono alzata Ok, ok, vieni qua Mary Ok, io ce li sono Mary, ma perché siamo tutti al bagno? Scusate, eravamo prima noi qui Usciamo Allora, andiamo, vieni qui Alzati, facciamo le coraggiose Oh no Lo sapevo io Mi raccomando Mary Sono morta Una cosa Oh, una lappatina Quando hai il punto esclamativo Lo sai che qua Sì, ma no, non ti preoccupare Sì, quando c'è il punto esclamativo doveva correre Eccola, una lampatina Sì, sì, perché vuol dire che ti ha visto, capito? Questo È purple Purple, praticamente, cammina nella nebbia E devi stare qui, insomma Lo sai che una volta mi si è buggato mentre giocavo? No, mi sembra che non ce n'è più Stai attenta Mary Ehi, sono entrata qui Aspetta Ecco, brava Stai che una volta si è buggata e non se ne andava più? Mi rimaneva sempre sotto Allora, portiamo queste due lampatine In realtà ne manca una Ma magari ce l'ha qualcuno Vieni Allora, vediamo qua Ma quelli sono tutti lì Perché? Vabbè Ok, ne manca solo una Ma sai che mi sto rendendo conto che è più facile giocare Tu mi stai seguendo, nel frattempo ti ho perso Ok, quasi qua Certo Ma dov'è è blu? Non è che abbiamo in queste porte Cosa? Dove è entrare dentro a queste porte Vieni, vieni, vieni Guarda dov'è Ho trovato la lampadina Allora, ok Ce l'abbiamo fatta Prima mash Allora Mary In questa mash hanno liberato Yellow Eccolo qui Andiamo di qua Yeah Occhio che c'è blu Oh madonna E' pure green Oddio, sta correndo Perché corre? Chi? Cosa fa yellow, scusami Allora, ti dico una cosa Ecco Allora, yellow ti prende Tu non devi fare esattamente niente quando ti prende Lui ti vuole portare al suo nido Quindi tu vedrai tutta la visuale dall'alto Appena arrivi sopra il gommone, là, il gonfiabile Oddio Tu prendi e schiacci tipo spazio per liberarti Tu prendi e? E fai tipo per saltare Tipo che ti dimeni, capito? Ok E lui Ti molla E tu non muori Dove sei? Oddio 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 No Come faccio? Mi hanno incastrato Mi hanno incastrato Mi hanno incastrato Buon bisogno Eh, aspetta, 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 aspetta Non so dove andare È blu Oh, mi sono nascosta Ce l'ho fatta Sono morendo Non ho capito Ero tra green e blu Eh, ho visto Ok, ok, ok Ci ho fatto due Come? Ho fatto due Due cose Brava Non so dove sta la palla blu Oh no Mi ha rivisto blu Ma che palle È qui vicino Perché io vedo blu Eh Aspetta Lui mi è corso incontro Quindi io ora sto tornando Ah, proprio Oggi blu Innamorato di me Ti vedo, ti vedo Vedo una Scatola verde Dove si vanno a portare Sei cosa? Sempre all'inizio? Sempre lì Qua Senti questo elicottero Vuol dire che c'è Iello Vicino Ah, ok Ah, blu Ma questo sta sempre qui Eccolo là, giallo Sì E' un po' qua, blu Ua, ha preso un'inizio Oddio Vediamo se lui lo sa come si fa Sì, sì Lo sa, lo sa Non si sta muovendo Allora, io ne ho pure due Ne mancano cinque Qua ce n'è un altro Di viola dobbiamo andare Eh sì E allora andiamo di C'è una scuola Vediamo Guarda dove è Iello Qui è Ai E' partito Ah, ok Ah, quello è il gommone Sì Ai, c'è blu C'è blu Non mi ha visto Stagna Stagna Qua c'è grill Vado nella casa di blu Dove sei? Ok, sono salvo Ah, quello si è salvato comunque Molto bravo Sta seguendo a uno Io sono nella casa di blu Sto vedendo Ok, qua ce n'è uno Ne ho trovato uno Ma se in questo castello Sì Perché è entrato blu È dietro di me Ma se in questo castello Sì Perché è entrato blu Eh, vedi che sta venendo Verso di te Stai attenta Guarda Guarda che cosa Sta tornando indietro Ciò qua non lo scatolano Ma io sono entrata Qua ho preso le cose grazie Allora Io ho un estintone Ne mancano tre Da par... Ah no, blu Mi ha visto blu Mannaggia blu Sempre Niente, l'ho detto Mi sono spaventata Ok, ne mancano due E vado da purple, va Oddio, yellow Mamma mia Ma non penso un tizio Ce l'aveva uno Eh sì, ma è qua con me Non so se è lo stesso, insomma Però dobbiamo andare da purple Penso Vediamo Oh no, blu Mannaggia blu Non fa altro che vedermi Ok, ne ho trovato uno Oh, blu Mi sono stancata, eh Cazzo di paura Cosa? Sono da purple comunque, eh Eh ma mi sa che non ce n'è però Estintori qua da purple Non ci sono E mi sembra di no Ma uno ce l'ha Ce l'ha divertita Non so se mo Ora ora vengo a portare questo Allora Allora Dove che non siamo stati? Oh, meni, meni Qua, qua Vieni, vieni Sento dei rumori? Eccolo, guarda dov'è È purple se senti i rumori Ah, ok È lì, è lì Lo vedo Ma guarda dov'è Oddio che c'è Ello Guarda dov'è È proprio qui Preso Ok, abbiamo finito Sì Sì, perché secondo me Un tizio è stato preso E è ritornato Sì, sì, sì Ok, io ho votato Va bene Adesso passiamo alla manche Successiva In questa manche Ci sono le teste Ma non mi sembra Che ci sia ancora Nessun altro Sono sempre loro In quella dopo Poi vengono Viene Ciano Ok Ma adesso c'è Ciano No, no, no Non è adesso È la manche Successiva No No Ma dove è il blu? Ah, no Ah, mi ha preso Mi ha preso Iello No 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 Aspetta Dov'è il gommone? Ma cosa dobbiamo raccogliere qua? Sì, ma io sono in giro Che mi ha preso Ok, ce l'ho fatta Cosa dobbiamo raccogliere? Le teste, le teste Ah, ok Mi raccomando Stai attenta Perché quando prendi la testa E metti lo scatolo La testa va via Ah, sì? Sì Io sono qua con blu comunque Ma io sono l'uscita Tieni qui E le teste scappano Comunque Non si stanno ferme Ok Oh no Ecco Il rumore Ah Ma te ne vai dalla blu Per favore Che è il rumore? Ehi Chi è il lupo? Ah, le colline Ah Quelle che fanno Ah Cioè blu No, no, levati 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 Cambio Ti desco Ferma, fai Ma non ti muovere Non ti muovere Mi ha preso verde Ah, verde No Che mi sono coperta Invece non dovevo scappare Eh, mannaggia Aspetta che consegno una testa E qua c'è green Perfetto Qua c'è il tuo cadavere Ancora caldo E ora Oh no Ti vedo Sonia Mi vedi Sì Vai Tifo per te Ok No perché qua è pieno C'è green Blu Yellow Tutti qui Stiamo facendo una grande festa Perché la mappa è piccolina Sì Quindi sono sempre l'intorno Allora Vediamo se se ne vanno Andiamo qui Perché sicuramente qui ce n'è qualcuno Oddio Dov'è blu? Ma fanno le teste Iii 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 Stanno facendo un attimo lavoro In casa mia Quindi c'è no In casa mia Nella palazza nazionale Vero? Quindi sentite Oh no Non ho sentito Oh mamma Ho preso a liscio L'incrocio qua Non ti sconcentrare No Ma qua non ce n'hai teste Però mi sa Ma mamma Lo sai in memoria Eh? Lo sai in memoria Lo sai in memoria Ma a me Diciamo che l'ho memorizzata Abbastanza bene Ancora non mi oriento Proprio benissimo Però Mi sa che non c'è Non ce n'hai però No Non ce ne sono No 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 Sì pure disconnesso Bene Sonia sei da sola No Sono morta Sei morta Sì E niente C'è sfallita Questa cosa Mary Va bene Mary Diciamo che è stata Una prima prova assieme Per spiegarti Più o meno Le cose Mi sarebbe piaciuto Spiegarti Cosa Precisamente Ciano Ma non ci siamo arrivati Va bene Ma avremo modo Di giocarci di nuovo Eh Se sta contando così bene Sì infatti Guarda Non ce l'ho interrotto Nemmeno una volta Va bene Va bene Mary È stato divertente Abbiamo un attimino Capito il gioco assieme Te l'ho più o meno spiegato Ma avremo modo di rigiocarci Quindi non ti preoccupare E quindi niente Se questo video vi è piaciuto E ne volete vedere un altro Lasciate un mi piace Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E niente Noi vi salutiamo Da Sonia e Mera è tutto Sì Cioè No niente Lei se non fa questa Uscita La linea allo studio La linea allo studio Ciao Ciao Ciao